il vino del fluo di venezia giulia i bianchi della nostra regione le 1700 aziende vittivinicole della nostra regione sono una grandissima motivazione per riuscire a volte a fare delle imprese che nessuno si aspetta il vino in manca di festeggiare anche i ristoratori i ragazzi giovani soprattutto ma non solo che che devono affrontare questa riapertura a udine poi è una sorta di rito bellissimo ci sono anche tanti italiani che ci stanno seguendo alcune testate come il New York Times, National Geographic, Robert Graff, tutto questo lockdown semplicemente ha portato la voglia e la necessità nei piccoli paesi ma dappertutto io provo emozione nel vedere varie persone collegate che quando si vedono inquadrate no tirano sul bicchiere e festeggiano un po' questo lo spirito del vino di unirci anche se siamo dall'Australia dal Canada dalla Colombia dall'India dal Giappone dalla Corea dal Messico dal Malta Lussemburgo Malesia Kazakistan Cambogia Sudafrica Benin che sono l'eccellenza per Antonomasia mi hanno in questo momento bellissimo e ringraziamo gli amici che ci seguono da tutte le parti del mondo hai appena realizzato il pestone Remo Anzovino adesso ciao da Fede Tinto ci sentiamo di Canter Ciao 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 Grazie a tutti.